Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su AlterX. Oggi andremo a vedere alcuni dei tool della sezione special, quindi le analisi geografiche e le analisi spaziali e nello specifico andremo a vedere i tool più utilizzati per la creazione di oggetti spaziali, quindi punti, linee, poligoni, combinazioni di questi elementi e anche il calcolo delle distanze. Per creare questo dataset non ho fatto altro che andare su Google Map e cliccare a casaccio su quattro punti della cartina con il tasto destro cliccando su che cosa c'è qui, vedete qui in basso ci fa vedere che cosa c'è nel punto che abbiamo selezionato e cliccando sulle coordinate latitudine e longitudine le ho copiate e le ho inserite all'interno del text input creando un punto A, un punto B, un punto C e un punto D Se volete potete anche voi crearvi 4, 5, 6 punti a caso sulla mappa e ricrearvi un text input come il mio altrimenti metterò il workflow con il text input nella descrizione del video da scaricare in modo che potrete iniziare il tutorial con lo stesso dataset che ho io Allora, il primo tool che andremo a vedere è il Create Points che ci permette di creare dei punti geografici partendo da una coordinata latitudine-longitudine Se andiamo a vedere il nostro dataset, la coordinata ce l'abbiamo tutta in una stringa che quindi dovrà essere divisa, dovremo creare due colonne una per la latitudine, una per la longitudine cosa che possiamo semplicemente fare con il text column Andiamo a scegliere la colonna coordinate I miei caratteri delimitatori sono due e sono la virgola e lo spazio Dovrà crearci una colonna, una seconda con i caratteri che abbiamo tolto e una terza con la longitudine, quindi lasciamo 3 e clicchiamo su Run Ora, giusto per rendere il tutto più chiaro Scegliamo anche un Select Tool Andiamo a togliere il campo coordinate 2 che non ci serve Il campo coordinate 1 sarà la nostra latitudine e il coordinate 2 sarà la nostra invece longitudine Ora, andiamo sul Create Points Longitudine, scegliamo il campo che abbiamo chiamato longitudine Latitudine, scegliamo il campo che abbiamo chiamato latitudine Queste tre opzioni sotto servono per dire al tool come andare ad interpretare i nostri dati Le nostre coordinate sono dei numeri decimali Quindi va benissimo lasciare qui Floating Point Se fossero stati dei numeri interi avremmo dovuto scegliere questo Il tool avrebbe diviso il nostro valore intero per un milione e si sarebbe ricreato da solo il valore invece decimale Abbiamo creato dei punti, vedete Point E ci dice anche che se vogliamo vederli dobbiamo mettere un Browser Tool Mettiamo il Browser Tool Ed ecco che abbiamo i nostri punti Il tool di solito si carica senza mappa per questione di velocità Se vogliamo aggiungere una mappa per contestualizzare questi punti all'interno dell'Italia Vedete, se clicchiamo qui dove ci sono le scritte verdi Il punto sulla mappa viene evidenziato con un colore più chiaro Quindi il primo punto è quello là in alto Il secondo è questo qua a sinistra Il punto C è questo nel mezzo E il punto D è l'ultimo qua sotto Ora andiamo a vedere un'operazione che grazie ad AlterX può essere fatta molto semplicemente Che è il calcolo della distanza Questo è il tool Come potete vedere il tool accetta un solo connettore in entrata Non ne accetta due Questo significa che dovremo andare a inserire i punti dell'origine e il punto della destinazione Per la quale vogliamo calcolare la distanza sulla stessa riga Quindi adesso noi vogliamo calcolare la distanza tra A e C e tra B e D Vuol dire che dovremo avere qui tutti i dati che riguardano la A e subito dopo tutti i dati che riguardano la C Dobbiamo affiancarli Come possiamo fare? Allora, possiamo prendere prima di tutto un filter Che ci separa il flusso di dati Vogliamo che il nome punto sia uguale ad A Ora apriamo il custom filter così ci ha già scritto il primo pezzo di formula Oppure il punto è uguale a B In questo modo avremo nel connettore in alto il punto A e B e nel connettore basso il punto C e D Ora non ci resta che affiancare le due tabelle Per farlo possiamo usare una join Chiedendogli di unirci le due tabelle in base alla posizione del record In questo modo, vedete, ci farà una join Nella quale è andata semplicemente ad affiancare i due set di dati esattamente come erano Quindi si può utilizzare questa opzione della join solo se non abbiamo la necessità Che un campo della tabella di sinistra Abbia una corrispondenza con il dato di destra Semplicemente li prende così come sono e li affianca Ora che siamo riusciti a mettere i nostri punti sulla stessa riga Possiamo connettere il distance tool E possiamo dirgli di calcolare la distanza dal centro ID al right centro ID Che sarebbe quello dei punti C e D Altre cose da impostare all'interno di questo tool Se facciamo il calcolo tra un poligono e un punto Ci chiede come si deve comportare nel caso in cui il punto sia all'interno del poligono Se ci deve dare distanza 0 Oppure se ci deve dare la distanza dall'angolo più vicino del poligono A noi in questo caso non ci interessa Ci chiede anche se vogliamo calcolare la distanza di guida In tempo oppure in chilometri E poi ci chiede anche se vogliamo farci indicare anche la direzione In valore espressi in punti cardinali E anche in gradi Possiamo scegliere un'unità di misura Miglia, piedi, mete, chilometri Noi diamo l'ok E vediamo che quello che ci ha calcolato è La distanza dal punto A al punto C Di 247 chilometri La direzione è sud Anzi facciamo una cosa Mettiamo In brosco così vediamo anche la mappa La distanza dal punto A Dal punto A al punto C Direzione sud In gradi 159,2753 E la distanza è 247 chilometri Invece la distanza tra Il punto B E il punto D Quindi tutta questa distanza qui È di 771 chilometri Direzione sud-est In gradi 125,8239 Molto bene Facciamo un po' di spazio Ora andiamo invece a vedere come Tracciare delle righe Delle linee Partendo dai nostri punti Per farlo possiamo utilizzare questo tool Polybuild Che ci dà la possibilità di creare Dei poligoni convessi Dei poligoni Oppure delle linee I campi che abbiamo Abbiamo La fonte Che sarà la colonna in cui abbiamo tutti i punti Group field Sarà un campo in cui viene Diciamo Creata una regola per andare a raggruppare i punti E la sequenza invece sarà una colonna in cui avremo L'ordine con cui i punti devono essere Uniti dalla linea Cioè pensate proprio al giochino della settimana enigmistica Unire i punti da Dall'1 a 29 Ok Questo è il nostro set di dati con i punti Se noi Connettiamo Il poly Build La sequenza È il nostro centro ID Cioè i punti creati Dal create points In questo caso non vogliamo raggruppare niente Se non gli diamo nessuna sequenza Lui prende la sequenza dei dati Come sono Come appaiono in tabella Quindi in base a questo numero Record Mettiamo Un browser dopo E vediamo che ci ha creato una riga A B C E D Ora Proviamo a dare una sequenza diversa Alla nostra linea Prendiamo Prendiamo Un formula tool Lo colleghiamo subito dopo Il create point Lo chiamiamo sequenza E facciamo una formula del tipo Vogliamo unire A D C E B Quindi facciamo If Punto Uguale a Then 1 Else if Punto Uguale a D Then 2 Else if Punto Uguale c Then 3 Altrimenti 4 And if Ovviamente io questa formula la sto facendo Perché adesso devo inventarmi io dei dati Quindi se voi avete la necessità di creare delle linee che seguano una certa sequenza di punti Probabilmente avrete già anche un campo, una colonna che specifica quale debba essere la sequenza Ed ecco che abbiamo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Adesso Prendiamo Il polybuild Diciamo che vogliamo fare Una sequenza di linee Centro ID Sequence field Abbiamo creato il nostro campo sequenza Mettiamo già un browse Un browse dopo Ed ecco Che lui ci ha unito A, D, B e C C'è li ha uniti Come lo volevamo noi Ora invece andiamo a vedere come funziona il campo group Se facciamo il campo group Praticamente andiamo a dirgli di creare una linea diversa per ogni gruppo Quindi prendiamo ancora un formula tool per inventarci dei gruppi E gli diciamo Scriviamo Gruppo Lasciamo double If Punto E' uguale a A Or Punto Uguale Di Allora 1 E' il gruppo 1 Altrimenti è il gruppo 2 Andiamo in run E ci crea un campo 1, 2, 2, 1 Adesso noi andiamo a prendere ancora Il nostro polybuild Scegliamo polyline Centro ID Gruppo Gli andiamo a dare Il campo del gruppo Mettiamo Browse dopo Ecco che Di linee ce ne ha create due Una per ogni gruppo E questo E' come funziona Il tool polybuild Per creare Delle linee Andiamo adesso invece a vedere Come funziona Se vogliamo creare Dei poligoni Non cambia in realtà molto Dalla costruzione Delle Delle righe Se noi Gli diamo Il valore Così com'è Quindi senza nessuna indicazione Di sequenza Di punti O di raggruppamento Di punti Scusate ho sbagliato Se noi non gli diamo Nessuna indicazione Su sequenza O raggruppamento Di punti Lui ci andrà Ci andrà a disegnare Un poligono Prendendo i dati Nell'esatto ordine In cui sono Per vedere come funziona La creazione dei poligoni Con Specificando Un ordine dei punti Oppure Un raggruppamento Andiamo a crearci Un set Con un pochino Più di punti Perché altrimenti Non riusciamo neanche E questa volta Per farlo Anziché andare a prendere I dati da google map Utilizziamo L'input Il map input Così vi faccio vedere Come funziona Anche questo Basterà Selezionare una mappa E qui abbiamo Quattro strumenti Per disegnare Proprio con il mouse O se c'è la vita La penna ottica Dei punti Per tracciare Delle linee O per disegnare Dei poligoni Noi adesso Andiamo a prendere Dei punti Uno lo chiamiamo A Chiamiamo B Tu sei C Punto E F G H I L M N E basta Mandiamo in run E il tool Ci crea Tutti i nostri punti Andiamo a scegliere Il polybuild Gli chiediamo Di farci un poligono Senza nessun'altra Indicazione Ed ecco Che lui ci disegna La mia bellissima F Del mio nome Sulla mappa Ora Come abbiamo fatto Prima per le righe Andiamo a inventarci Una sequenza Differente Per Dire al tool Quale debba essere La sequenza Dei punti Prendiamo sempre Il formula tool Questa volta Però Andiamo a creare Dei numeri random Così ogni volta Che noi mandiamo Il run Cambia La sequenza Andiamo qua Nelle funzioni Andiamo in quelle Matematiche Abbiamo Un Run Ora Colleghiamo Il polybuild Vogliamo fare Un poligono E la sequenza Me lo da Il campo sequenza Me l'ha fatto così Do un altro run Esce un'immagine così Ne do un altro Esce così Questo perché Perché tutte le volte Avendo utilizzato La funzione random Tutte le volte Viene creato Un nuovo numero A caso E lui disegna Ovviamente Robe a caso Se utilizziamo Invece Il campo Per il raggruppamento Creiamo Un'altra formula Chiamiamo Gruppo E diciamo Se La sequenza È minore Di 0.5 Allora È il gruppo 1 Altrimenti Sarà il gruppo 2 Nel gruppo Andiamo a selezionare Gruppo Ed ecco che abbiamo Due poligoni Che si incastrano Uno sull'altro Se nei dati Ci sono abbastanza Dati Se La nostra funzione Ci ha creato Abbastanza dati Per creare Dei punti Che si inseriscono In due gruppi Diversi Ci verranno Disegnate Due forme Diverse Ora Vediamo invece Come funziona L'ultima opzione Che c'è All'interno Del Polybuild Tool Che è il Convex Tool Il convex Altro non fa Che creare Dei poligoni Convessi Quindi che non hanno Angoli concavi Quindi qui angoli Praticamente non rientrano mai Verso il centro Della forma stessa Adesso io Questo È l'immagine Ottenuta con il convex Questa invece Era il poligono Originale Vedete che Spariscono Tutti i punti In cui gli angoli Rientravano Praticamente Spariscono Ora invece Vediamo L'ultimo tool Della demo Di oggi Che è Il polysplit Che fa esattamente L'opposto Del polybuild Quindi Noi abbiamo Questo poligono A forma Di F Se lo inseriamo Nel polysplit Possiamo chiedere Di darci punti Vedete che Ci vengono Splittati Tutti i punti Di cui il poligono È composto Erano 11 Erano 11 Che ci dà Che ci dà anche La sequenza Dei punti Praticamente Ritorno A questa situazione Qua iniziale E poi Abbiamo anche L'opzione Per andare A Splittare Nelle regioni O nelle regioni Dettagliate Adesso Questo poligono Che ho fatto io È talmente semplice Che di regioni Probabilmente Ce ne sarà Soltanto una Però Se ad esempio Andiamo a prendere Dei poligoni Fatti Abbastanza complicati Come potrebbero essere Ad esempio I poligoni Delle regioni italiane Vi metto anche questo Nella descrizione Del video Sono Poligoni Abbastanza Abbastanza complessi Che se ne hanno Tantissimi punti Anzi Andiamo a vederlo Quanti punti sono Prendiamo un polisplit Vi chiediamo Di spettarcelo E vediamo Che è tipo Solo il Piemonte Anzi Facciamo così Che facciamo prima Solo il Piemonte È fatto da 16125 punti Quindi è Un poligono Abbastanza complesso Se noi Andiamo a chiedere La regione Chiediamo con la dettagliata Perché Intanto Regione o regione Dettagliata È la stessa cosa L'unica cosa È che nella regione Semplice Manca questo campo Split is all Ad esempio Vediamo che il Piemonte È stato suddiviso In tre regioni Se noi andiamo A vedere sulla mappa Facciamo magari Un po' di zoom Vediamo che Questa È proprio Il grosso Della regione E poi Abbiamo altre due piccole forme Guardatele qua Una qui E l'altra invece Quest'altra qui Che adesso è diventata Rosa chiaro Che sono Due piccoli poligoni All'interno Del poligono Più grosso Infatti vedete Che qui abbiamo True Sono Dei poligoni Che non Onestamente Non so da dove Si creano Ma se vogliamo andare Ma se ad esempio Dalla cartina Dell'Italia Intera Vogliamo andare A recuperare Le regioni Di cui è composta Ci converrà Usare un filtro E eliminare Tutti i campi In cui Split is all Is true È vero In questo modo Avremo Delle forme Molto più pulite Quindi Per Ricapitolare Quello che abbiamo Visto Con questo tutorial Creazione di punti Partendo da Coordinate Di latitudine E longitudine Misurazione Della distanza Tra un punto A E un punto B Il set di dati Deve avere Sulla stessa riga Il punto A E il punto B Quindi Destra e sinistra Creazione di linee Che può essere fatta In modo semplice Quindi Lasciando come ordine L'ordine In cui i dati Sono in quel momento Specificando Un ordine O addirittura Specificando un gruppo Quindi creando Una linea Per ogni gruppo Creazione di poligoni Creazione di poligoni Convessi Che quindi Non presentano mai Degli angoli concavi Non rientrano mai Verso il centro Della forma stessa Creazione di poligoni Specificando Una sequenza La sequenza dei punti E creazione di poligoni Invece Creando Dei gruppi Quindi Diversi poligoni In base Alla condizione Dei gruppi Che è nei dati E infine Il poli build Per andare a suddividere Un poligono Nei sottopoligoni Di cui è Esso stesso composto Opzione points Per farci dare L'elenco dei punti E la sequenza E invece Suddivisione Nelle sottoregioni interne Per farci invece Dare tutti i poligoni Di cui un poligono È composto Il tutorial È finito Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao